Per Coracello Brut al Palabam intervistiamo Tommaso Fantoni, uno dei sicuramente se non il giocatore più in forma di questa BMS Torino che sta iniziando veramente a carburare Tommy. Sì, lo si è visto stasera contro una squadra secondo me molto forte che veniva da una vittoria di spessore a Biella, sarà difficilissimo per gli altri concorrenti vincere a Biella, l'abbiamo visto noi la prima di campionato, quindi onore a Mantua la partita scorsa ma oggi onore a noi che non abbiamo mai mollato anche sul più 20 e andiamo avanti così. Ci piace sottolineare una cosa da testimoni oculari, Mantua è una squadra di attacco stellare, forti nelle guardie, forti nei lunghi con Amoroso e Jefferson ma oggi Torino possiamo dire che ha difeso veramente un po' i live motivi di tutta la stagione, oggi Torino ha difeso di squadra e veramente molto bene, tenendo Mantua un punteggio non usuale per le sue caratteristiche e continuando la sua ottima partita offensiva, ancora circolazione di palla, tutti coinvolti, insomma c'è da chiestare allegri a Torino in questo momento. Cavalchiamo l'onda finché è buona, bisogna lavorare così ogni giorno, bisogna mettersi in testa che si vincono le partite facendo fare un canestro in meno agli altri, non un canestro in più, quindi buona difesa oggi, loro nonostante un sacco di bocche da fuoco siamo riusciti a badarli bene, quindi bene, sono contento. Partita veramente ottima di tutti quanti, quindi non interroghiamo di più Tommy perché c'è la seconda intervista che fa, lo mandiamo a fare la doccia, lo ringraziamo, non lo diciamo per le statistiche che oggi dopo tre partite ha sbagliato un tiro solo? Eh sì, ragazzi capita anche quello, va bene. Era il ventiquattresimo secondo. Ce ne fossero, ce ne fossero. Grandissimo, Tommaso Fantoni, grazie Tommy. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie Tommy.